Il comune di Valbondione starebbe valutando la requisizione degli impianti di Lizzola di proprietà della STL, società ora in liquidazione. C'è un precedente che risale al 2006 a Foppolo, quando una vicenda giudiziaria vide scontrarsi i comuni di Foppolo e Valleve con il Financian London Group, amministrato dall'architetto zoniese Gianfranco Quarti. Come ricorda oggi l'eco di Bergamo, otto anni fa i due comuni brembani agirono in virtù della rilevanza pubblica degli impianti, cioè il beneficio che portavano alla collettività e di converso il danno derivante dal tenerli fermi. In quella vicenda fu consulente l'avvocato Stefano Zonca, lo stesso legale che oggi sta seguendo per conto del comune di Valbondione la vicenda STL. Requisendo gli impianti, in pratica un esproprio, salvo riconoscere un indennizzo al curatore fallimentare della STL, il comune ne acquisirebbe di fatto la proprietà. Questo potrebbe porre le basi per poi individuare un nuovo soggetto a cui dare in gestione gli impianti e salvare la prossima stagione dello sci.